E beh ragazzi sono Gilberto e sono qui oggi tornato a portarvi un breve video in cui vi mostro molto semplicemente quello che è il meccanismo della doppia tassazione sui dividendi non so se tutti lo sanno ma tendenzialmente in base a degli accordi che ci sono fra i due paesi noi pagheremo di più o di meno imposte sui dividendi che otterremo supponiamo quindi, visto che io vi ho già messo in ordine la tassazione sui dividendi per paese io ho preso i maggiori, quelli che di solito io magari ho in portafoglio le ho messi in ordine dalla più alta, come ritenuta la fonte, alla meno alta questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ipoteticamente abbiamo in portafoglio supponiamo un'azienda svizzera tipo Logitech abbiamo un quantitativo di azioni che ci permette di ricevere in teoria 100 euro di dividendi da Logitech su 200 euro lì noi avremo la ritenuta, la fonte che viene direttamente fatta dallo Stato, quindi dalla Svizzera del 35%, questo vuol dire che noi di fatto incasseremo solo 65 euro di quei 65 euro lì, poi in base al broker, quindi che sia un broker magari in regime amministrato o dichiarativo sapremo se l'imposta ce la direttamente toglierà magari il broker, ad esempio Fineco tramite sostituto di imposta e quindi noi riceveremo direttamente il netto oppure se noi invece abbiamo come broker, un broker che è sotto regime dichiarativo, ad esempio trading 212, dovremo prendere la fine dell'anno il riepilogo in cui vengono mostrati i dividendi ricevuti e le plusvalenze, dovremo consegnarlo al commercialista e farà tutto lui detto questo vi faccio vedere un semplice esempio numerico supponiamo quindi di ricevere 100 euro di dividendi e vediamo le varie casistiche in base al paese di origine del dividendo ad esempio supponiamo di avere Logitech e supponiamo di ricevere 100 euro di dividendi di fatto noi incasseremo solo 48 euro supponiamo invece magari di avere Louis Vuitton riceveremo 51 euro anziché 100 vedete che la doppia tassazione erode tantissimi rendimenti da dividendi è per questo che dopo vi farò vedere la differenza che c'è tra investire in dividendi e investire in azioni e cercare di guadagnare tramite il capital gain diciamo che le più convenienti sono magari le azioni inglesi parlo sempre solo di dividendi le azioni inglesi, le azioni italiane visto che non abbiamo nessuna ritenuta alla fonte e quindi il netto frontiera sarà semplicemente il totale del dividendo quindi dovremo solamente pagare il 26% di imposta italiana anche quelli della Cina che ho letto hanno fatto un nuovo accordo che abbassa l'imposizione al 10% che diciamo ci sta e poi diciamo USA, Paesi Bassi e Giappone ci possono stare secondo me dal 25% in su diventa follia investire in dividendi in aziende che arrivano da questi paesi qua semplicemente perché otterrete praticamente la metà di quello che dovreste ricevere e diciamo che diventa follia ed è per questo che vi voglio far vedere un semplice calcolo che vi mostra il perché investo in capital gain cioè in azioni che mi permettono di guadagnare tramite le fluttuazioni del prezzo e non tanto per il dividendo considerate che io ho un portafoglio molto diversificato che in teoria ha un dividend yield del 2% questo vuol dire che nel caso in cui io avessi 10.000 euro investiti nel mio portafoglio dovrei ricevere all'incirca 200 euro di dividendi l'anno quindi diciamo che è un dividend yield abbastanza basso ma perché tendenzialmente investo in azioni che o non rilasciano dividendi o rilasciano dividendi bassi perché diciamo che non è il mio obiettivo e vi mostro qua il motivo del perché non investo in dividendi allora qua vi voglio fare un semplice calcolo in cui vi mostro seguendo il mio caso quindi supponiamo di avere un capitale iniziale ingrandisco un po' così vedete meglio supponiamo di avere un capitale iniziale di 10.000 euro facciamo un deposito annuale essendo che io investo 100 euro a settimana supponiamo quindi essendoci 52 settimane investiremo 5.200 euro l'anno anni di durata del deposito supponiamo che noi investiamo per il lungo termine e quindi anni di deposito supponiamo che ci siano 30 anni ok? essendo che io ho 22 anni supponiamo di investire per fino ai 52 anni il tasso di interesse ora supponiamo che noi visto che il mio obiettivo è di fare un 10% all'anno supponiamo che quel 10% lì lo otteniamo tramite dividendi quindi è paradossale però supponiamo di voler ricevere 10% di dividend yield di dividendi e su quei dividendi a meno che non siano italiani supponiamo che essendo che diciamo il paese è un po' più sicuro sono gli Stati Uniti supponiamo di dover pagare di fatto il 37% perché noi riceviamo 100 euro ma di fatto paghiamo 37 euro di imposte che siano ritenute alla fonte più l'imposta italiana paghiamo un 37% questo vuol dire che di fatto noi non atterremo il 10% all'anno visto che ogni anno dobbiamo pagare le imposte sui dividendi che riceviamo di fatto otterremo semplicemente un 6,3% ok? non so se mi sono spiegato ma dicendo che paghiamo il 37% di quel 10% lì otterremo semplicemente il 6,3% facciamo il calcolo dell'interesse composto e vedremo che a fine anno avremo ottenuto e vediamo come dopo 30 anni il nostro capitale sarà di 523.000 euro con 357.000 di interessi guadagnati quindi inseriamo questi dati qua quindi su questi interessi qua noi avremo già pagato le imposte quindi avremo ottenuto 357.000 euro di dividendi netti quindi semplicemente ce li siamo messi in tasca ora facciamo lo stesso calcolo però anziché andare a pagare il 37% all'anno sui dividendi otterremo un 10% all'anno e poi alla fine dei 30 anni andremo a pagare il 26% sugli interessi che avremo maturato e vi farò vedere come di fatto cambia tantissimo facciamo il calcolo e vediamo come ovviamente qua dovremo ancora sottrarre la tassazione che è del 26% sul capital gain cioè le plusvalenze quindi avremo un capitale finale di 1115399 e interessi 949399 dovete però stare attenti e considerare il fatto che sul capital gain che abbiamo ottenuto noi dovremmo ancora pagare il 26% che è l'imposta italiana sui rendimenti da capitale quindi dovremo prendere questo importo qua fare per 0,74 che semplicemente gli togliamo il 26% che è l'imposta italiana e ora facciamo il calcolo sul capitale finale che otterrei vedremo se sarà più alto di questo quindi il capitale finale questo qua sarà quello lordo quello netto sarà semplicemente uguale a questo meno questo più e vediamo come la differenza in 30 anni sia di circa 340.000 euro di cui anche praticamente un 50% di differenza tra questo importo e questo importo qua perché? perché noi non solo andremo a pagare il 26% anziché il 37% perché sui dividendi paghiamo il 15% di ritenuta che sarebbe questa qua e in più dobbiamo pagare il 26% sull'imposta italiana mentre sui capital gain dobbiamo solo pagare il 26% e alla lunga fa tutta la differenza del mondo ed è per questo che tenenzialmente io sì ho anche azioni che lasciano dividendi ma perché mi creano un flusso di cassa che mi permette di investire magari in periodi come questi dove è stato un crollo e quindi mi sono serviti per avere un po' di liquidità e comprare ma tendenzialmente secondo me un dividend yield portafoglio sopra il 3-4% è tantissimo troppo secondo me poi dipende anche dall'orizzonte temporale che avete e soprattutto dall'età che avete detto questo io spero che questo video qua vi sia stato chiaro nel caso in cui abbiate domande lasciatemele pure qua sotto che io rispondo sempre detto questo io spero che il video vi sia piaciuto lasciatemele like un commento e niente ragazzi vi chiamo al prossimo video video vi sia piaciuto Grazie a tutti.